... La mattina mi aveva fatto il silenzio, non c'erano un pacchettino, non c'erano di mangiare il piatto. Si, si, prende le boche. La mattina mi aveva fatto il silenzio, non c'erano il silenzio. Sono un antinchiato con un bagnone di scena, non c'erano di resistere aкуzione, la scena d'amore controllo. Non c'erano la stagione, insomma, non c'erano le mangiare. Non c'erano la scena analisi, non c'erano la scena. La scena è quella del silenzio, non c'erano la scena. La scena è la scena. E' il silenzio. però quando dice magari la giornata che io ci ho giudicato perché un po' di bancata 30 euro e ha giudicato 30 euro e poi salta arriva, ma che non lo prende molto che non ha così quello via radio l'hai provato tampoco? no Grazie. Grazie. Grazie.